Siamo arrivati alla quinta edizione del concorso che premia il miglior traverso eseguito sulla prova di Fumarco Per noi è un onore poter partecipare e poter organizzare al Valle Ossolano che è l'evento più atteso dai realisti dell'Ossola Siamo molto contenti anche perché siamo arrivati alla quinta edizione è andato sempre tutto bene Speriamo di andare avanti Grazie a tutti 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 Grazie a tutti